Nel suo cortile per tutti da sempre era la signora Matilde, una donna dal sorriso aperto, dalle gambe svelte nel correre là dove c'era bisogno di portare aiuto, sia che fosse una famiglia povera o un'anziana bisognosa anche solo di compagnia. Tutti le volevano bene. Col passare degli anni i suoi bambini erano diventati grandi e l'amore e la vita li avevano allontanati e così la signora Matilde era rimasta sola. Certo le volevano ancora bene, non passavano due giorni che non la chiamassero. Ogni tanto qualcuno di loro veniva a trovarla con la famiglia che cresceva. Aveva il comodino pieno di fotografie dei nipotini e non mancavano i calendari con scritto ciao nonna. Don Stefano, passato da casa sua per le benedizioni natalizie, l'aveva presa a cuore. Passava spesso a trovarla, a prendere il tè da lei, a fare due chiacchiere e così visita dopo visita l'aveva convinta ad aiutarlo nell'oratorio estivo. Lei arrivava la mattina e con la tenerezza che aveva sempre avuto si prendeva cura dei bambini piccoli. Aveva aperto un laboratorio di decorazioni e tutti, anche i più scalmanati, le volevano bene perché lei li ascoltava e non si stancava di stare con loro e così all'oratorio era diventata per tutti nonna Matilde. Era così felice ma si sa gli anni passano e le gambe col tempo si fanno malferme, insicure e da prima aveva lasciato il suo laboratorio e ora anche la messa che ormai ascoltava sola la radio. Era di nuovo a casa da sola. Ciao nonna Matilde si sentì udire un pomeriggio fuori dal minimarket. A parlare erano due ragazzini, Mattia e Riccardo. Ne ricordava benissimo i nomi, erano più grandi, più alti ma erano sempre loro, con loro sguardo vivace. Era facile volergli bene. Come stai? Le domandarono. Sai noi ci ricordiamo sempre di te. A nonna Matilde vennero i luciconi agli occhi. Possiamo accompagnarti a casa? Così stiamo un po' con te. E la portarono a casa dove lei preparò una buonissima cioccolata con degli squisiti biscotti e li ascoltò mentre le raccontavano della scuola, degli amici, della famiglia. Era felice. Le sembrava di avere a casa i nipotini lontani e li guardava con infinita tenerezza. E si sa i ragazzi hanno le antenne e captano l'amore. Se ti fa piacere nonna Matilde torniamo a salutarti anche la settimana prossima e se vuoi portiamo qualcun altro con noi. Sai noi siamo una bella compagnia. Li guardava dalla finestra mentre si allontanavano. Contentissima e si ricordava di una bella umilia sentita in chiesa. L'amore chiama amore.